Ho ritrovato la luna, ho trovato ciò che veniva chiamato luna. Ma quella luna scomparsa durante i giorni in cui tutto si è intersecato ma che, adesso, non assomiglia più alla luna che mi ero abituato ad osservare, è diversa, è uguale, è cambiata. È comunque lei. Prima di concentrarmi sui dettagli più tecnici della sua nuova natura, ho fatto come è mia consuetudine fare da un po' di anni a questa parte e le ho trovato un altro nome. Nuova Diversa dalla luna nell'aspetto dato che nuova non è visibile. Diversa nella sua collocazione dato che non è situata fuori dall'orbita terrestre. Diversa nella forma in quanto nuova va pensata come una sorta di sciame di particelle. Le uniche caratteristiche che ha mantenuto sono la sua massa. Il suo ciclo di ventotto giorni è la sua influenza gravitazionale osservabile sui liquidi. nuova Nuova è uno sciame dal diametro approssimativo di un centinaio di passi costituito da particelle Urkut invisibili che fluttuano sulla terra alla stessa altezza delle dune più grandi. Nuova descrive sempre il medesimo percorso a forma di anello che si conclude e ricomincia ogni ventotto giorni. ho chiamato tale percorso Linea di Nuva Questa scoperta è stata possibile solo trovandomi nel luogo e nel momento in cui il terreno sotto i miei piedi ha cominciato incredibilmente a far piovere acqua dal basso verso l'alto acqua or che è stata tratta verso il nulla ed è ricaduta sul terreno dopo pochi secondi passata questa bizzarra pioggia il fenomeno si è ripetuto un minuto dopo a centinaia di passi di distanza e poi via via più lontano fino a sparire all'orizzonte mi sono immediatamente deciso a seguire le tracce di terreno bagnato che questa perturbazione lasciava dietro di sé notando che il suolo umido era sempre in corrispondenza di falde di or situate sotto terra ho perso le sue tracce dopo appena tre giorni di cammino così ho scavato una casa e ho cominciato a studiare il terreno e l'or che vi scorreva sotto per vedere di capire quale fosse e in quale modo funzionasse l'Urgut responsabile di quella inusuale intemperia ma con molta sorpresa dopo quasi un mese di ricerche infruttuose Nuva è tornata ma dalla direzione opposta a quella in cui mi aveva seminato esattamente alle mie spalle così ho capito che non serve seguire ma che basta aspettare su questa linea si concentra una forza che ho già percepito in passato una decomposizione che rifiuta di giungere al suo termine ultimo di giungere di giungere Grazie a tutti. Grazie a tutti.